Sono Fabrizio Nonis e ti do il benvenuto a Te lo spiedo io, la rubrica dove ti svelerò tutto quello che volevi sapere sulla carne ma che nessuno ti ha mai detto. In questo video ti mostrerò quali sono i 5 livelli di cottura della carne, così da soddisfare tutte le esigenze del palato dei tuoi amici. Partiamo subito. Al sangue, circa 50-55 gradi al cuore per ottenere la cottura del sangue, in grado di conservare un sapore succoso intenso anche con poco condimento. Media il sangue, il cuore della carne incomincia ad assumere una gradazione sul rosato con una temperatura che si assesta tra i 55 e i 65 gradi. Si incomincia anche a percepire una croccantezza sulla superficie, bilanciata con i succhi ancora intrappolati all'interno. Media, la cottura media si ottiene portando la temperatura interna tra i 67 e i 72 gradi per ottenere una carne rosata e morbida al centro ma saporita e apostolita all'esterno. Media ben cotta, 5 minuti per ciascun lato con una temperatura al cuore che deve raggiungere i 73-76 gradi. E' un'ultima soluzione per sciogliere i grassi di certi tipi di carne. Ben cotta, l'ultimo livello. Una cottura di 6 minuti per lato è l'ideale, prestando attenzione a non esagerare per evitare di ottenere una carne dalla consistenza stopposa. E per oggi è tutto, ma ti aspetto nel prossimo video dove ti spiegherò le 4 regole per cucinare un avrosto perfetto.